Salve a tutti e ben ritrovati per questo nuovo video, torniamo a parlare di Hans Mock Nieman che sta raggiungendo dei livelli impossibili, online almeno. Ma dal vivo ragazzi, come mi avete fatto notare, a 2692 non sta andando proprio malissimo, è vero, potrebbe fare di meglio, visto che vuole diventare campione del mondo, ma non sta andando malissimo. Oggi ci concentriamo sulla partita contro Nakamura, una partita veramente, veramente incredibile, guardate Nieman che copertina ha messo, Nieman fa la mossa finale ai caro Nakamura, ve lo ricordate? Wrestling Smackdown ragazzi, mamma mia la mossa finale! E Nakamura cede, batte tre volte sul ring e cede perché non ce la fa, quindi si ritira, ammette la sconfitta, veramente devastante, mamma mia! Ma comunque questo ragazzo è veramente molto strano, è Nieman, io non voglio dire niente, faccio il tifo per lui, ve lo dico, perché comunque si vede che è un ragazzo che ci tiene tantissimo a quello che fa, Ma non è che se faccio il tifo per Nieman non lo faccio per Karlsson, per me Karlsson è il numero uno, ok? Karlsson è il numero uno, è già arrivato, domina da tantissimi anni, Nieman ancora deve arrivare, Nieman ha qui in testa che vuole arrivare a essere il numero uno, ma guardate la sua reazione! No, dai, mamma mia! Ma quanta rabbia ha dentro questo ragazzo? Con la maglia di Spider-Man Almeno c'è un ragno No Forza Nieman! Forza Nieman! Devastante Nieman! Ok ragazzi, mi sento di stargli vicino a questo ragazzo perché si impegna, ce la mette tutta, alla fine non fa del male a nessuno, vuole diventare numero uno al mondo Ora andiamo a vedere questa partita straordinaria, prima di iniziare ricordo a tutti di mettere mi piace e iscrivervi al canale, grazie a tutti coloro che si stanno iscrivendo e iniziamo! Ok eccoci qui, vediamo la partita, Nakamura contro Nieman, partita di altissimo livello, attenzione al punteggio di Nieman 3227, un punteggio clamoroso! Questo tra tre mesi lo vediamo primo al mondo online, eh? Dico online, non dal vivo Dal vivo ancora deve fare un centinaio di punti, ma online Nakamura apre con pedone 4, Nieman risponde con c6, difesa Karokan, segue cavallo c3, d5, cavallo f3, attacco dei due cavalli, Nakamura gioca all'apertura di Fischer Nieman risponde con alfiere g4, la mossa migliore, segue pedone h3, Nakamura interroga subito l'alfiere, Nieman cattura in f3, dopo donna per f3 gioca pedone 6 Questo è un classico, il nero dà via l'alfiere campo chiaro e poi piazza i pedoni sulle case chiare Nakamura gioca pedone g3, pronto a fianchettare l'alfiere campo chiaro, Nieman continua con cavallo d7, segue donna e 2, pedone d4, Nieman attacca il cavallo, il cavallo si ritira in d1 e Nieman gioca h5 Ok, questa è la variante più giocata contro i due cavalli, almeno ad alti livelli è così, ed è la variante più forte La posizione è completamente pari Nakamura continua con h4, impedisce h4 da parte del nero, segue pedone 5, Nieman supporta il centro Per ora sono tutte ottime mosse, alfiere h3 per Nakamura, attiva l'alfiere campo chiaro, Nieman continua con l'alfiere d6, segue pedone d3, cavallo e 7, pedone c3 Benissimo, come possiamo valutare questa posizione a livello posizionale? Il bianco ha la coppia degli alfieri, quindi dovrà cercare in qualche modo di aprire il centro Infatti l'idea di Nakamura è aprire il centro, mentre Nieman deve cercare di mantenere chiuso il centro Segue pedone c5, Nieman supporta il pedone in d4, Nakamura arrocca, segue cavallo c3, pedone c4 Questa è una strana decisione da parte di Nakamura, infatti il motorello segna come errore, perché chiaramente qui si va a chiudere il centro e il nero ha la coppia dei cavalli Quindi, Nieman gioca donna e7, pedone in a3, Nakamura vuole spingere in b4, Nieman glielo impedisce con a5 E dopo pedone b3, Nieman gioca pedone g6 A cosa serve pedone g6? È proprio necessaria come mossa? No, non è necessaria, però Nieman qui sta attendendo, non sa se arroccare corto, se arroccare lungo, non sa bene cosa fare Quindi, decide di attendere e vedere cosa succede Nakamura continua con l'alfiere g5, attacca la donna Ecco, queste solitamente non sono mai delle buone mosse, perché appunto possono essere contrastate dal pedone E infatti Nieman gioca a pedone f6, Nakamura è costretto a ritirare indietro l'alfiere e Nieman gioca a redd8 Ora, redd8 è una mossa anti-computer per eccellenza Per quelli che pensano che Nieman stia imbrogliando online Ma ragazzi, ancora con questa storia? È vecchia sta storia, non sta imbrogliando online, altrimenti l'avrebbero fatto fuori, no? E dai, su via Cioè, c'è veramente ancora qualcuno che pensa che Nieman stia imbrogliando a scacchi? Per favore, per favore Mossa anti-computer per eccellenza Nieman non arrocca, vuole portare in E in C7 Segue pedone f4, re c7 Questa è la rubata Carlsen, vi ricordate che Carlsen aveva mosso per due volte il re in apertura? Ecco, Nieman fa più o meno la stessa cosa, ma qui non siamo più in apertura Cavallo in f2 da parte di Nakamura Nieman gioca torre f8 Segue torre in e1 Vedete, Nakamura attiva tutti i suoi pezzi E Nieman ora gioca re b8 In pratica ha effettuato una sorta di arrocco artificiale Ha messo il re in b8 Nakamura gioca re g2 Da spazio alle torri, perché non si sa mai Potrebbe anche aprirsi la colonna h Nieman continua con alfiere c7 Ecco, qui il motore suggeriva pedone per f4 Nieman ritira l'alfiere Perché questa posizione è veramente difficile Ci sono ancora tutti i pedoni in gioco Quindi bisogna stare molto attenti Pedone in f5 per Nakamura Nieman gioca pedone g5 Così facendo sta chiudendo la diagonale all'alfiere campo chiaro Nakamura cattura in g5 Dopo pedone per g5 gioca pedone g4 Ok, perché gioca pedone g4? Eh, perché dopo pedone g4 a parte del nero L'alfiere rimaneva in trappola Quindi Nakamura salva questo alfiere Nieman continua con pedone h4 Decide di mantenere chiuso il gioco E si crea anche un pedone passato Dal punto di vista posizionale è un'ottima mossa Il motore suggeriva il cavallo f6 per mantenere la pressione su g4 Ma anche questa, anche se il motore poi la segna come errore Guardate sempre la valutazione del motore ragazzi È 0.00, ok? Se torniamo indietro, quant'era? Praticamente 0.00 Quindi non è cambiata la valutazione della posizione Perché qualcuno di voi mi ha scritto Eh, ma se la mossa è un errore vuol dire che Il motore scende a livello di valutazione No, non scende per niente Perché ci sono varie mosse possibili E sono molto simili l'una dall'altra Che si differenziano per pochissimo, ok? Quindi h4 è un'ottima mossa Spiegato questo, andiamo avanti Torre b1 per Nakamura Neiman gioca al fere d6 Segue torre b2, re c7 Nakamura in pratica individua che può spingere in b4 Ovvero ha una spinta di rottura in b4 Per aprire il gioco e vuole raddoppiare le torri Neiman si preoccupa, piazza il re in g7 Segue torre b1 Torre in a8 Perché torre a8 da parte di Neiman? Neiman gioca a torre a8 Perché in caso di b4 Dopo pedone per b4, pedone per b4 Si aprirebbe la colonna a Quindi anche Neiman cerca del controgioco Nakamura gioca re h1 Mossa stranissima Torre g8 da parte di Neiman Alfiere f1 per Nakamura E Neiman gioca finalmente cavallo f6 Cavallo f6 è una bella mossa Perché attacca il pedone in g4 Il pedone in g4 è un pedone debole Cavallo h3 per Nakamura E Neiman gioca cavallo in h7 Quindi è costretto a difendere Dato che g5 è attaccato da alfiere cavallo Donna in d1 per Nakamura Neiman gioca torre a6 Vuole raddoppiare le torri Nakamura continua con alfiere 2 Segue torre in a8 Donna in c1 Pedone b6 Quindi Neiman cambia idea Poi gioca a pedone b6 Dice ok vieni dai spingi Io non ho paura Sono pronto a contrastarti Nakamura continua con torre a2 Piazza la torre sulla colonna a Neiman continua con donna f6 Donna f6 è una mossa posizionale Non fa niente a livello posizionale Però impedisce ad esempio al pedone Di poter essere spinto Il nero qui deve assolutamente difendere Il pedone in g5 Poiché è attaccato da vari pezzi del bianco Nakamura raddoppia sulla colonna a Neiman continua con alfiere 7 Aumenta la difesa su g5 Segue alfiere 1 Donna d6 Alfiere f3 Come vedete nessuno dei due sta facendo progressi Neiman sta giocando in stile Magnus Carlsen Ovvero gioco posizionale Chiude il gioco E sapete che è difficilissimo vincere Quando il gioco è tutto chiuso No? Qui Neiman gioca a re b7 Nakamura continua con alfiere f2 Segue rc7 Alfiere g1 Ora secondo alcuni Almeno vedendo il video di ieri Queste sono partite noiose No ragazzi Queste non sono partite noiose Sono partite posizionali Se poi a voi non piace il gioco posizionale Quello è un altro discorso Ma non sono noiose Immaginatevi di trovarvi in questa posizione Con un minuto a testa E giocare ad esempio contro Nakamura Che succede? Il tempo 5 mossa avete già perso Come fa a essere noiosa? La posizione è comunque complicata Molto complicata Pedone in a4 Da parte di Neiman Nakamura gioca pedone per a4 Torre per a4 E alfiere in d1 Quindi Neiman qui osa A coraggio Apre la colonna a Poi ritira la torre in a7 E Nakamura gioca alfiere f2 Vuole tornare con gli alfieri Ad occupare le case sul lato di donna Neiman raddoppia le torri Nakamura spinge in a4 E Neiman gioca cavallo in b4 Ora con cavallo b4 Cosa sta minacciando? Sta minacciando il pedone in d3 Viene segnata con imprecisione Vabbè pace La mossa migliore per il motore Era re b7 Ma anche se giochi la seconda del motore A livello posizionale Qui va benissimo Segue torre a3 Nakamura difende Neiman continua con donna c6 Sta attaccando il pedone in a4 E Nakamura continua con donna b1 Ok donna b1 A cosa serve donna b1? Beh intanto difende il pedone in d3 E poi piazza la donna sulla colonna b Segue cavallo f6 da parte di Neiman Ecco oh questo è proprio un errore Questo è un grave errore Perché Neiman sta lasciando in presa il pedone in g5 Nakamura effettivamente potrebbe catturarlo con un buon vantaggio Però non lo cattura giocare h2 Probabilmente distinto E Neiman poi difende giustamente subito il pedone in g5 Ok arriva alfiere in e1 Nakamura attacca il cavallo Neiman non lo ritira neanche il giocatore in a5 Dato che il cavallo è difeso dal pedone ma anche dall'alfiere Quindi segue cavallo f2 Re d8 Re h3 Per impedire spinte pedonali E Neiman gioca re 8 Una partita strategica molto combattuta Sembra comunque che i due abbiano paura l'uno dell'altro Questo si Questo è vero Perché non stanno praticamente osando Nakamura gioca alfiere b3 Segue re f8 Donna in d1 Re g7 Neiman porta il re al sicuro sul lato di re Donna in e2 per Nakamura Neiman gioca torre a7 Segue alfiere in d2 Alfiere f6 La posizione non cambia Più o meno rimane pari Nakamura ritira il re in g2 Neiman gioca alfiere a7 Segue cavallo h3 Ora Nakamura sta cercando di impostare un attacco Neiman gioca alfiere in f6 Cioè continua a fare le stesse mosse Non si preoccupa di questo attacco Nakamura ritira il cavallo in g1 Neiman gioca a donna d6 Segue re h3 Donna e7 Cavallo f3 Cavallo in f8 In pratica Neiman qui ha aumentato la difesa con la donna Per dare spazio al cavallo Però potete immaginare che questo cavallo non ha molto spazio dove andare Perché se viene in d7 non potrà più difendere g5 Quindi Nakamura gioca alfiere in d1 e Neiman riporta il cavallo in h7 Segue alfiere c1 donna d8 donna in b2 donna c7 Se volete la mia opinione su questa partita per come è stata giocata fino a qui rimane quella di prima Ovvero che i due giocatori hanno un po' di paura perché sanno che la sconfitta è pesante Sanno che se Nakamura perde arriva il video di Neiman e se Neiman perde arriva il video di Nakamura Questo a livello psicologico incide secondo me sulla prestazione della partita Alfiere in d2 per Nakamura Neiman gioca donna d6 Segue alfiere 2 Alfiere e7 Donna b1 Niente di speciale Alfiere f6 Donna d1 Alfiere e7 Cavallo in e1 Vi faccio notare che i due non ripetono la posizione perché comunque Nakamura magari vuole vincere la partita Alfiere f6 per Neiman Cavallo c2 Nakamura offre il cambio dei cavalli Neiman ritira il suo cavallo e arriva a torre b1 Sto andando molto veloce perché è una partita lunghissima ma ora diventa veramente molto carina Alfiere in d8 Neiman difende il pedone in b6 Nakamura gioca torre a1 Neiman gioca alfiere e7 Arriva donna b1 da parte di Nakamura Alfiere in d8 di nuovo per Neiman difende b6 Nakamura gioca alfiere d1 Cavallo in f8 E Neiman qui è tutto chiuso in difesa Non sa bene cosa fare Gioca cavallo f8 Segue cavallo in e1 Cavallo h7 Cavallo f3 Nakamura attacca E Neiman gioca cavallo b4 di nuovo Alfiere in e1 per Nakamura Quando finalmente poteva giocare torre in b3 e attaccare il cavallo Gioca alfiere e1 Neiman continua con alfiere e7 Alfiere f2 Alfiere d8 Mamma mia ragazzi In pratica è anche una sfida di nervi questa Infatti Nakamura poi affermerà che Non ce la faceva più Quindi proprio per sfinimento Alfiere in g1 per Nakamura Neiman gioca alfiere f6 Segue alfiere h2 Cavallo in f8 Cavallo in e1 Donna c6 Benissimo Ancora non sta succedendo niente Nakamura gioca cavallo c2 E finalmente Neiman prende una decisione Una decisione molto importante Quando ha solo 3.8 secondi Sacrifica un pezzo Vediamo se questo sacrificio funziona Ovviamente Nakamura cattura Neiman entra con la donna in e4 E segue torre in a3 Il sacrificio funziona? No Il sacrificio non funzionava se Nakamura Giocava cavallo in a3 Purtroppo non avendo giocato cavallo a3 Il sacrificio diventa buono dopo torre a3 Perché qui addirittura il nero ha un leggero vantaggio Il nero ora si è creato due pedoni passati Quindi Neiman vedete rischia E passa in vantaggio Poi vabbè Ritira indietro la donna in c6 La partita ritorna pari Doveva entrare in h1 Non era facile Ma la posizione diventa interessante Torre in b3 per Nakamura Attacca il pedone in b6 Neiman difende con il cavallo Segue alfiere in f3 Pedone e4 Guardate che belli questi due pedoni Nakamura è costretto a prendere una decisione Veramente difficile Ovvero sacrifica il cavallo Mossa geniale Dopo pedone per Gioca alfiere per e4 In pratica fa fuori uno dei due pedoni passati del nero E attacca la donna e la torre Segue donna per c4 Alfiere per torre Torre per alfiere E donna in d3 A livello materiale Nakamura è messo meglio Però Neiman ha questo pedone passato che è pericolosissimo E la posizione rimane pari Segue donna in d5 Donna f6 Donna per f6 Torre per donna E cavallo c5 Benissimo ragazzi Qui arriva il bello Neiman ora è pronto a spingere questo pedone E ad andare a promozione Nakamura attacca Neiman difende Segue pedone in a5 Pedone d3 Neiman non perde tempo Però così facendo rischia grosso Perché in realtà Nakamura qui può difendere tutto Con torre f1 Torre d1 Torre su casa chiara Neiman ad alfiere campo scuro Però Nakamura sbaglia Gioca alfiere per cavallo Ora dopo pedone in d2 E qui Neiman sta per andare a promozione Cosa può fare Nakamura? Gioca torre d3 Ai 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 Questo è un grave errore Un grave errore qui Nakamura Posizione completamente persa È un grave errore perché Il nero può andare a promozione Quindi vediamo cosa succede Pedone per c5 da parte di Neiman Ora Neiman è pronto a spingere È pronto a spingere È pronto a spingere E poi ad andare a promozione Nakamura cattura la torre Segue alfiere per torre E ora se torre in d3 Arriva alfiere per a5 L'alfiere difende il pedone Poi Neiman è pronto a spingere Quest'altro pedone E poi ancora Poi ancora E questi due pedoni Non possono essere assolutamente fermati Perché R è troppo lontano Nakamura allora spinge Il suo pedone passato Neiman continua con Promozione a donna E in questa posizione Nakamura decide di abbandonare Anche se Neiman ha solo 2.8 secondi Però insomma c'è l'incremento Quindi si suppone che poi potesse appunto Vincere la partita Questa è la partita ragazzi Come avete visto Sì posso capire Che può risultare un po' noiosa Ma la forza degli scacchi Si vede anche qui Cioè Neiman qui Non ha arretrato di un millimetro Anzi poi ha sacrificato anche il pezzo E ha vinto la partita Partita veramente devastante Neiman sta battendo Nakamura Sta battendo Karuana Ha pareggiato con Carlsen Ma Neiman poi ha vinto anche il torneo Guardate qui Neiman arriva primo al title Tuesday Contro i giocatori Che dicevano che Neiman non valeva niente Che erano molto più forti di lui Come mai poi arriva primo E invece il title Tuesday Pomeridiano è stato vinto da Carlsen Ma nessuno mette in dubbio Le capacità di Carlsen Bene Detto questo ragazzi Vi chiedo di consigliarmi qualche titolo Dato che c'è molto dibattito Su questi titoli Ragazzi consigliatemi tutti i termini Che vi vengono in mente Consigliatemi dei titoli Da poter mettere in futuro Grazie a tutti per la visione di questo video Vi ricordo di mettere mi piace Iscrivervi al canale Ciao e alla prossima Grazie a tutti